Coabitazione sociale e condomini solidali sono due modi per favorire la cultura dell'abitare sociale delle persone sole e disagiate in condizioni di fragilità affinché possano sostenersi a vicenda condividendo spazi e servizi. Insomma la co-residenzialità o co-housing già esistente in Europa e che qualcuno vorrebbe diventasse legge. Questo qualcuno è Gianni Liviano, consigliere regionale che in conferenza stampa ha presentato la proposta di legge regionale. Si tratta di provare a recuperare un'idea di città che non è solamente un aglomerato di palazzi ma che è una comunità di persone. La sensazione che abbiamo veramente in questa fase storica è che le relazioni tra le persone si stiano rallentando e che sempre più siano le dinamiche di solitudine che scattano soprattutto nelle persone più anziane ma non solo. Può capitare per esempio a volte che ci sono anziani magari rimasti soli con i figli che sono fuori che abbiano degli appartamenti anche grandi e che avvertano sensazioni di solitudine perché stanno soli. D'altra parte può capitare per esempio che ci siano delle famiglie anche più giovani che fanno fatica a trovare casa. Allora questo è un esempio evidentemente ma ce ne potrebbero essere molti altri di questo tipo. Si tratta di provare a abbinare le politiche sociali e le politiche abitative. Tentare insomma di fornire risposta ai bisogni di costruire comunità, ai bisogni di solitudine, al rischio di isolamento da parte di alcune persone con delle dinamiche anche abitative che consentano di favorire la possibilità di coesistere e di coabitare. Insomma sostanzialmente si chiede attraverso questa legge di aiutare forme di coabitazione tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti e questa è l'esperienza del co-housing. Poi c'è l'esperienza dei condomini solidari, cioè sono dei condomini che vanno evidentemente dei palazzi e strutture esenziali che vanno agevolati anche nei finanziamenti, che consentono alle persone che vanno ad abitare all'interno di poter utilizzare degli strumenti in comune. L'utilizzazione degli strumenti condivisi, che ne so, dalla lavanderia in comune piuttosto alla sala tv, piuttosto che delle altre esperienze di condivisione, favoriscono evidentemente le relazioni interpersonali e rapporti umani, apporti umani e relazioni interpersonali di cui in questo periodo abbiamo un incredibile bisogno che si stanno sempre più rallentando.